Questa puntata di sfide parla di Enzo Berzot. Enzo Berzot per chi ha la mia età è il calcio, è il terzo gol di Paolo Rossi, è l'urlo di Tardelli, è la maglietta strappata di Zico, sono i dribbling di Bruno Conti. Il calcio per chi ha la mia età è il calcio di chissà che Maradona, Zico, Socrates, Lidbaschi, possono tutti essere fermati, di chissà che durante una finale puoi sbagliare un rigore ma vincere lo stesso, proprio quando nessuno credeva in te. Il calcio di Enzo Berzot è anche il calcio di chi ama il calcio, non per la tecnica dei singoli giocatori, non necessariamente per la tattica complessiva di una squadra, ma perché il calcio può essere visione del mondo, può essere carattere, può essere tigna, può essere sfida. Il calcio di Berzot è il calcio dei terzini sinistri che hanno la maglietta numero 3, i mediani hanno il 4, gli stopper hanno il 5 e così via. E' il calcio di chi sa recuperare l'uomo, Paolo Rossi, per avere a disposizione il campione. E' il calcio di chi vince una finale e il giorno dopo in aereo gioca a Scopone con Zoff, Causio e il presidente Pertini. Il calcio di Berzot in sostanza è il calcio di chi sa che si può vincere contro chiunque, si può vincere qualsiasi cosa. Basta credere in se stessi, nella propria squadra e in ultima analisi nei propri amici. Io la finale dell'82 Italia-Germania 3-1 la ricordo bene, avevo 14 anni, però la partita simbolo, secondo me la partita perfetta è Italia-Brasile 3-2. Quando vinci contro la squadra più forte del mondo e dopo tutto diventa possibile, non necessario ma possibile. Questo grazie a Enzo Berzot. Cosa aveva Berzot? Sapeva chiedere generosità a chi era generoso, sapeva chiedere lucidità a chi era lucido, sapeva chiedere fantasia a chi era fantasioso, sapeva essere concreto e chiedere concretezza a chi era concreto. In sostanza Enzo Berzot era un grandissimo allenatore. Lo chiamavano il vecio che aveva poco più di 30 anni, per la sua lunga carriera da calciatore, per quell'aria da vecchio saggio, per il modo paterno con cui allenava i suoi ragazzi. Onesto, tenace, generoso. Questo era Enzo Berzot. La sua lezione di calcio romantico si è forse perduta negli anni, ma mai si è perduto il ricordo dell'uomo. È il 21 dicembre del 2010. I campioni dell'82, i suoi ragazzi, sono tutti riuniti per l'ultimo e più triste dei saluti. Partiamo dall'uomo, perché è difficile essere dei bravi maestri se non si è dei bravi uomini. È una cosa che è nostra, è nostra, nessuno ci ha dato a toccare e noi tutti insieme abbiamo fatto quest'ultima passeggiata insieme a lui.